Salgono a 13 i provvedimenti cautelari nell'ambito delle indagini sulla brutale aggressione ai danni di un 16enne tranese avvenuta la sera del 2 giugno scorso in piazza Vittorio Emanuele II nel centro di Biceglie. Dopo le prime ordinanze di custodia ai domiciliari eseguite lo scorso 29 giugno su ordine della procura di Trani nei confronti di 7 bisegliesi presunti responsabili del pestaggio, 4 19enni, 2 21enni ed un 33enne lo stesso provvedimento è stato disposto dal Tribunale dei Minori di Bari nei confronti di 6 minorenni che facevano parte del branco Non è stato possibile procedere invece nei confronti di un 14enne per via della sua giovanità Tutti gli indagati rispondono dell'accusa di lesioni gravi Gli inquirenti sono arrivati a loro grazie ai riconoscimenti compiuti dalla vittima e alle immagini registrate da una telecamera di sicurezza installata nei pressi del luogo dell'aggressione scatenata, in base a quanto emerso nel corso dell'attività investigativa, da vecchie ruggini per questioni di ragazze Una violenza brutale e spietata, quella scattata nei confronti del 16enne colpito più e più volte con calci e pugni, sferrati anche con una noccoliera di ferro anche quando era ormai a terra, esanime I tre amici che erano con il ragazzino non poterono far nulla contro la furia del branco anche se uno di loro riuscì a dare l'allarme Quando i carabinieri arrivarono sul posto trovarono la vittima priva di sensi circondata da rivoli di sangue degli aggressori invece nessuna traccia Il giovane venne poi trasportato in ambulanza prima al pronto soccorso di Bisceglie e poi in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria dove venne ricoverato con diverse lesioni gravi Grazie 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 Grazie